Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Montbaroccio si prepara a vivere le magiche atmosfere natalizie per la sua 24esima edizione. Il borgo si vestirà a festa a partire dal 25 novembre, dalle ore 17, e per ben sette giorni vivrà ricchi appuntamenti con mercatini di Natale, ambientazioni a tema, spettacoli e musica dal vivo, laboratori per bambini e momenti culinari tipici e locali. Un lavoro di sinergia e armonia, come sottolinea il neopresidente della Proloco di Montbaroccio. Abbiamo creato un gruppo che potrà dare, mi auguro, degli ottimi risultati, non solo per questo evento che ormai è collaudato negli anni, ma anche per tutta una serie di iniziative che già stiamo un po' mettendo in cantiere. Natale a Montbaroccio rientra nella rete del progetto degli itinerari di bellezza con ConfCommercio? Assolutamente sì. Il fatto di mettere in rete tutte queste iniziative credo che sia un'arma vincente per tutto il territorio. È brutto pensare ai singoli eventi come Candelara, Montbaroccio, tutta una serie di iniziative. Il fatto di poter mettere in rete, in comunicazione, divulgare a livello nazionale questi eventi crea sicuramente la possibilità di dare una maggior risposta e soprattutto interesse a livello nazionale per chi vuole conoscere e visitare questi nostri territori. Se non si fa rete, non si fa squadra, non si lavora insieme, ci perdiamo veramente molti pezzi. Un percorso, quello di Montbaroccio, nato un quarto di secolo fa, grazie all'iniziativa parrocchiale nella piccola sede del Chiostro del Centro Storico. Mi permetto quest'oggi di ringraziare chi ci ospita, quindi il presidente Varotti, insieme al suo staff, perché ci ha dato una locazione che per noi è diventata un punto di riferimento e che ha collaudato il percorso di viabilità con spazi dedicati sul Beato Sante, in particolar modo per l'area di parcheggio e lungo le strade provinciali SP32 e SP80 che permettono a Danello di raggiungere con facilità il borgo grazie ai servizi navetta che vengono messi a disposizione dal comune di Montbaroccio affinché il parcheggio diventi fruibile e la facilità di raggiungere il borgo sia tale. Stand di artigianato ma anche di gastronomia? Eh certo, la gastronomia da noi non mancherà mai perché comunque abbiamo la forza di avere la componente dell'associazione della festa della Tagliatella che collabora con la Proloco di Montbaroccio, nonché dai ragazzi di Montegiano della festa della Crescia Saicocon, quindi l'evento che si traduce nella località di Montegiano Maggio viene riportato all'interno del borgo e quindi tutte le associazioni del territorio, in particolare anche quelle culinarie, diventano parte integrante di queste nostre eccellenze. La peculiarità e la specificità dei mercatini di Montbaroccio sono le ambientazioni che si adeguano allo spazio del borgo nel rispetto del territorio. Stanno l'ispirazione qual è stata per la direzione artistica? Allora l'ispirazione sono i villaggi in miniatura della LEMAX, sono all'interno del Palazzo del Monte, quindi lo stesso palazzo naturalmente a voce per tutto il paese e quindi sono questi villaggi in miniatura con carillon, con musiche tipiche di Natale con vari personaggi. La casa dei pinguini e quindi bambini affascinati e entusiasti di questi animali, quindi cerbiatti, volpi, ricci, tutti animali del bosco, il forno, il vecchio fornaio degli anni 50 di Montbaroccio, il signor Pipi, il soprannome detto proprio, quindi mi piaceva proprio recuperare questi spazi e queste tradizioni che il borgo non può fare a meno. Si riconferma anche quest'anno la grande attrattiva che è la magica nevicata in piazza Barocci con tre appuntamenti giornalieri alle 16.45, alle 18 e alle 19, creando un'atmosfera davvero magica che abbraccia tutto il borgo.